11 aprile, buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta, sono le 7 e 29 minuti in questo momento, 7 e 30, siamo in diretta per leggere i titoli delle notizie più importanti. La rassegna stampa del mattino, questa settimana è stata un po' con orari un po' altalenanti, ma anche perché il Papa, Papa Francesco, in questi giorni non sta celebrando la messa nella sua cappella Santa Marta, in quanto è impegnato, anche ieri sera nella Via Crucis, quindi è impegnato nei riti del Triduo Pasquale. E oggi, tra l'altro, è sabato santo, oggi è il grande giorno del silenzio, il giorno della veglia questa notte, la madre di tutte le veglie, la veglia pasquale, che trasmetteremo anche noi questa sera in diretta. Accolgo l'occasione già per dirlo subito. Alle 18, quella del Duomo di Fano, con il Vescovo della Diocesi Armando Trasati, e alle ore 21, invece, con Papa Francesco, dalla Basilica di San Pietro. Allora, andiamo con ordine, vediamo a che ora è sorto il sole questa mattina, alle 6 e 30, e tramonterà stasera alle 19 e 48 minuti. Vediamo il tempo, invece, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, per oggi, domani, Pasquetta, Pasqua, insomma, avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento, un po' di vento domani, lungo la costa, per il resto, come vedete, soltanto l'anticipazione di qualche nuvola nella giornata di Pasquetta, soprattutto nei settori interni colinari, perché poi pare che la giornata di martedì, che per Fano è solitamente una mezza festa, come si dice, sarà probabilmente martedì caratterizzata da cielo a tratti nuvoloso, con qualche locale precipitazione. Poi però ci sarà subito un repentino miglioramento. E allora, tanto comunque a casa dovremmo stare ancora per altri 22 giorni, fino al 3 di maggio. Ieri il Premier Conte ha annunciato il proseguimento di questa stretta, per tutta l'Italia, per tutte queste settimane, insomma, fino al 3 di maggio. Dunque, dobbiamo ancora avere pazienza. E andiamo allora a leggere i giornali. Cominciamo e vediamo il Corriere Adriatico. L'edizione di Pesaro titola E facciamoci altri 22 giorni così. Il Governo proroga la serrata al 3 maggio, Ceriscioli invece integra, spesa vietata anche nei festivi. Non abbasso la guardia, dice il Governatore. Riaperte, librerie e negozi per l'infanzia. Nelle Marche, il trend positivo dell'epidemia, più guariti e meno morti. Ieri erano 7, sono state 7 le vittime nelle ultime 24 ore. Ieri invece si è registrato un po' in tutti i supermercati, soprattutto in quelli della provincia di Pesaro Urbino, delle file, si sono registrate file, ma anche tensioni, code, esasperazioni. Insomma, le spese di Pasqua hanno portato ad assembramenti ed episodi anche di intolleranza e disorganizzazione, con troppi momenti appunto di tensione. Addirittura ci sono stati dei parapigli, insomma ci sono finite a schiaffi. Mentre i controlli, sul fronte dei controlli, sulle strade, ancora troppi furbi in un mese, sono state sanzionate mille persone. Poi di spalla qua, vedete, l'allarme degli ospedali. SOS mascherine, introvabili le FFP3 una settimana. E poi finiranno le notizie in breve, sempre dalla prima pagina del Corriere di oggi. A Pesaro si rivedono i libri e la ripartenza, dunque la ripartenza delle nostre anime. Sempre a Pesaro, spiaggia a domicilio, con lettini a noleggio, boom di richieste. Poi a Urbino, ginecologia blindata contro i parti a casa con equip privata. Il crocifisso invece, miracoloso, su un pick-up, su una macchina, processione ad apecchio, come per il sisma del 1781. La prima pagina del resto del credito di Pesaro. Casi di riposo, serve una svolta, ceriscioli, contagio agghiacciante, rimedieremo. Protesta una figlia, senza tamponi anziani condannati. Mentre il virus, i dati regionali, altro passo avanti da marzo, più dimessi che ricoverati. Ed ecco invece, qui di spalla, sulla prima pagina invece, no, andiamo a vedere la fotonotizia. Un'epidemia di solidarietà, mascherine, slancio di volontari alla prima consegna gratuita. Ieri Pesaro ha cominciato a distribuire nelle case le mascherine e dunque in tanti si sono proposti per fare, appunto, volontariamente per fare questa consegna. Ma, dicevo, di spalla si parla, c'è un intervento, il Carlino ospita, un intervento del presidente degli albergatori di Pesaro, Fabrizio Liva, che dice il turismo va salvato ora, oppure non ripartiamo. Tutti i giorni si parla di crisi, di fase 2, di fase 3, ma per il turismo sono fasi inesistenti, a differenza di altre categorie. Oggi sarebbero arrivate tante persone a Pesaro, il ponte del primo maggio ugualmente, a fine maggio con le acli ugualmente, e i primi di giugno con il nuoto ugualmente. Questo che cosa significa? Non c'è certezza della ripresa, a differenza di altre categorie, per le quali invece si sta delineando un riavvio, oppure stanno lavorando anche in questo periodo. I provvedimenti governativi sono importanti, ma ci inducono a fare altri debiti. Noi abbiamo bisogno di altro. E poi l'intervento prosegue nelle pagine interne del resto del Carlino. Hanno denunciato invece un 41enne, aveva in garage anfore e bronzi di epoca romana, dunque un urbinate è finito nei guardi della giustizia. Poi la protezione civile è instancabile, ha percorso 7500 km per consegnare la spesa, e poi la testimonianza di un giovane medico che fa parte delle squadre USCA che sono entrate in azione. Così vi curiamo a casa, questo è il titolo. Dicevamo allora, ancora tre settimane a casa, stop allo shopping nei giorni festivi. Il Premier Conte proroga la serrata, Ceriscioli chiude tutti i negozi delle Marche a Pasqua, il 25 di aprile e anche il primo di maggio. Timori per le gite durante i ponti. Il Governatore dice che molti usano la spesa alimentare come alibi per uscire. E poi sotto un altro giro di vite, deciso forse vedendo tutte le code ai supermercati nella giornata di ieri, e dai supermercati si dice insomma dobbiamo dare anche il giusto riposo ai cassieri, alle cassiere, agli addetti alle vendite. Rimangono, e poi lo vedremo tra poco nelle altre pagine del Corriere Adriatico, vedremo quelle che rimangono aperte. Più o meno rimane tutto uguale, l'unica categoria che apre è quella delle cartolibrerie e dei libri. I contagiati sono 5.000, sempre dal Corriere, ma più guariti e meno morti. Ieri 7 vittime, un terzo rispetto a martedì, oltre 1.000 invece. I dimessi positivi attuali sono scesi a 3.316, liberi altri 6 posti in rianimazione. E il Corriere pubblica tutti i dati, le percentuali, con appunto il totale dei casi positivi sinora registrati, che sale a quota 5.084, su un totale di 18.970 tamponi analizzati. La percentuale dei nuovi casi è leggermente, ieri salita rispetto al giorno prima, del 2.6%, ma continua a diminuire quella dei tamponi positivi sul totale testato in un giorno. Si attesta al 16.6%. Le province di Peso Urbino. La provincia di Peso Urbino ha ancora lo sgradevole primato dei casi positivi registrati, 2.093, seguita da Ancona 1.501, Macerata 7.76, Fermo 3.43, Ancona, scusate, Ascoli Piceno 237, mentre sono 134 i positivi di fuori regione. Attualmente sono 8.144 le persone in isolamento domiciliare e dopo contatti a rischio, di cui 1.135 sono operatori sanitari. All'inizio dell'emergenza, nelle Marche, ben 21.833 persone si sono dovute mettere in quarantena. E questa invece è la pagina del resto del Calino, dove c'è questa intervista a Gregorio Bucci, che è uno dei medici operativi nella squadra, in una di queste squadre si chiama appunto Usca, mentre a destra la dottoressa Giovanna Stanzone al lavoro. E a sinistra, insomma, vedete alcuni momenti in cui queste persone, tutte con le tute e quant'altro, superprotetti, iperprotetti, entrano nelle case appunto per fare la visita, per visitare queste persone. Quattro team sono, quattro squadre, dieci visite a turno. Uno dei medici dice facciamo diagnosi e decidiamo chi ricoverare oppure no. Quando ci vedono entrare così bardati iniziano a scusarsi perché temono di aver dato troppo disturbo. Ora, su queste squadre attive sul territorio della provincia di Pesurbino sono soddivise in due turni, con dieci visite a turno, operative sette giorni su sette, dalle otto alle venti. Uno dei sanitari, come dicevo, è questo pesarese, specializzando in medicina generale. Visitiamo pazienti Covid dimessi dall'ospedale ma che hanno avuto un peggioramento a casa oppure pazienti sospetti Covid selezionati dai coordinatori in base ai sintomi segnalati dai medici di famiglia per i quali si valuta la possibilità di superare la malattia a casa. Simona Spagnoli ha fatto altre domande interessanti su questa squadra. squadre che adesso, ripeto, siamo ancora nella fase emergenziale. L'importante in questo momento è garantire la salute di tutti e dobbiamo ringraziare che comunque queste squadre sono entrate al lavoro. Per tutte le polemiche, per tutte le persone che in questo momento si staranno arrabbiando dicendo sono settimane che chiamo e nessuno mi ha risposto, sono settimane che chiedo un tampone e nessuno me l'ha fatto, sono settimane che, sono settimane che, per tutte queste polemiche ci sarà il tempo ovviamente per discutere e per vedere quello che ha funzionato o non ha funzionato. Chiaramente eravamo tutti, sono stati tutti impreparati, l'Italia è impreparata, il mondo è impreparato e purtroppo ci sono delle persone che ci hanno rimesso e questo è inevitabile, questo è indiscusso, su questo non c'è nulla da dire. Quindi l'unica cosa che noi dobbiamo fare in questo momento, poi faremo le analisi, le polemiche e tutto il resto, ma è stare e fare quello che ci è chiesto di fare. Stare a casa perché il virus lo trasporta alla gente, non prende l'autobus e quindi evitando i contatti è l'unico modo per bloccarlo. Dopodiché bisognerà fare il vaccino, bisognerà fare tutto quello che c'è da fare per farlo diventare innocuo questo virus. Dobbiamo ricordarcele queste cose perché sono cose che ci siamo detti all'inizio, poi tendenzialmente cerchiamo di dimenticarcelo, anche per una questione di sopravvivenza e per una questione di salute mentale, ma è così. E allora che non siano soltanto spot queste squadre, poi per carità, sono tutte bravissime persone, dobbiamo ringraziarle per tutta la dedizione e quello che faranno, ma è importante, e questo lo dico soltanto per dare anche un colpo a tutte quelle persone invece che sono a casa e che stanno aspettando che qualcuno dica loro cosa devono fare, anche semplicemente una visita. RSA, e questo è un altro problema, e su questo ci sarà ancora tanto da discutere, tante polemiche, ma ripeto, si faranno alla fine i conti. RSA e residenze protette, il buco nero degli anziani, c'è la scure della Regione, decessi nelle strutture focolaio, Ceriscioli minaccia la revoca degli accreditamenti. Dunque la ruota è partita nel lunghissimo dopo di questa storia chiamata Covid-19, un capitolo decisamente interessante riguarderà la verifica annunciata del Governatore sulle autorizzazioni per le strutture per anziani e se necessario revocheremo anche gli accreditamenti, minaccia all'inquilino di Palazzo Raffaello. Si fa presto a dire assistenza alla terza età quando ci sono tre fasce di operatori che lavorano in questo settore e due di queste dipendono dal servizio salute della Regione. Circa 250 strutture in gioco, parliamo di 250 strutture che un tempo erano riunite sotto il generico ombrello degli ospizi e invece oggi si differenziano in tre tipologie, residenze sanitarie assistite, le famose RSA, residenze protette e case di riposo secondo il criterio dell'intensità assistenziale decrescente. Un business da quasi 9.000 posti letto in tutta la Regione che ha mostrato limiti evidenti alla luce del significativo numero di decessi registrati in questa sorta di buco nero della terza età. Non c'è bisogno di scomodare le cronache nazionali, le Marche conoscono bene la scia dei decessi nelle case che sono diventati incubatori del contagio. E c'è tutto l'articolo di Andrea Taffi sul Corriere Adriatico questa mattina, molto interessante e che troverete sul giornale Inedicola. Anche il Carlino si interessa questa mattina delle case di riposo senza test anziani condannati, il grido di una donna che ha la madre a casa roverella, tamponi solo su chi ha sintomi manifesti, dice questa donna, così è impossibile arginare i contagi. Lei si chiama Francesca Perugini, dal 4 marzo non vede più sua madre che è ospita appunto a casa di casa roverella, 160 posti letto gestiti dalla cooperativa Labyrintho, è una delle due strutture di cui si compone Santa Colomba. L'altra è Casa Aura, 80 posti a gestione comunale ma con servizi forniti da alcune cooperative come Labyrintho e Novi Orizzonti. In un ambiente così fragile, dice Francesca, i tamponi sono necessari, sono indispensabili. Gli anziani non hanno difesa o speranze se non si isolano i portatori e dunque questo è quello che è successo praticamente e che sta succedendo purtroppo ancora in molte case per anziani. Poi il cardino qua sopra in questa sorta di grafico con tutti questi numeri, vedete, indica un po' la situazione. Sei deceduti nella RSA di padre Damiani, in via Napoli 38, 23 vittime a casa Aura, nessuna a casa Roverella, 14 a Famiglia Nova, a Fano e 4 nella casa di riposo di Saltara a Colli al Metauro. E sulla casa di riposo di Saltara sulla casa di riposo interviene il sindaco Stefano Guzzi di Colli al Metauro, ci sono altri due recoverati. Dopo i quattro decessi degli ultimi giorni l'emergenza dunque continua, mancano anche gli infermieri. A Guzzi dice ho chiesto un sopralluogo all'Asur. La struttura ospita 36 anziani, turni coperti da personale che però non è sanitario. E poi 200 mila euro sempre a Fano di buone spese e ne restano ancora 58 mila a destinazione ai primi 932 carnet. Da martedì si potrà ricominciare a inoltrare la domanda. Sono 66 le domande respinte, il reddito di cittadinanza superava l'importo previsto a San Costanzo, consegna ok e anche i privati possono comunque donare. C'è un conto corrente dedicato. La RSA invece a casa di riposo di Vila Fastigi resta chiusa, il caso politico diventa bipartisan, sollevano dubbi sulla struttura sia la lista civica, una città in comune, sia i consiglieri dei 5 Stelle. La RSA nei supermercati grida, spintoni e pure denunce. Momenti di follia per la spesa di Pasqua, code chilometriche e distanze saltate. In via dei Tigli finisce a pugni tra una giovane donna e una signora di 64 anni. Tra gli episodi c'è questa aggressione, questa donna signora di 64 anni aggredita, spinte e pugni in via dei Tigli a Torraccia da una donna sulla Trentina, un caso su cui si sta cercando di fare luce dopo il ricovero della signora per le medicazioni. Mentre oggi per i fiorai riapre il cimitero, il comune di Pesaro informa che da oggi ci sarà una graduale riapertura dei cimiteri con accesso, scusate, consentito esclusivamente però ai fiorai. I cittadini che vorranno depositare fiori sulle tombe dei propri cari potranno farlo attraverso questi esercenti. Oggi e domani sarà consentito l'accesso all'interno del cimitero centrale di Pesaro dalle 8.30 alle 12.30, ma soltanto ai soggetti che hanno l'attività di vendita di piante e fiori. E poi ci sono altri orari che potrete leggere sul giornale di questa mattina. Poi Biancani che promette, raddoppieremo i testi, il consigliere regionale annuncia la svolta la prossima settimana, i tamponi nei tre pit stop provinciali diventeranno 600. La buona notizia ci risulta che almeno l'80% dei pazienti segnalati è negativo alla prima verifica. Furbinazione, mille sanzioni in un solo mese, Corriere Adriatico, tutti in casa, ma siamo tra le province che più trasgrediscono. I medici si raccomandano, rischiamo una nuova epidemia. Lo ripetiamo, rischiamo una nuova epidemia. Lo ripetiamo e lo sottolineiamo in rosso, come a scuola, rischiamo una nuova epidemia. E poi, caro mio, il 3 maggio ci tocca stare a casa pure tutta l'estate. E allora, posto di fare a cazzotti per una costarella, pensiamo a fare le cose con la testa e non da fuori di testa. Scusate, spauracchio contravvenzioni, centralino dei vigili bollente e c'è chi redarguisce il sindaco in bicicletta, ma senza mascherine. Tante le richieste, tante le segnalazioni che sono arrivate alla polizia di Pesaro per segnalare situazioni un po' così al limite. E poi c'è questa notizia che arriva, questo pezzettino dell'articolo in cui si parla del sindaco a intervenire in formato delle segnalazioni. Anche il sindaco Ricci è successo anche a me di essere fermato in strada mentre ero in bici da un cittadino che mi ha chiesto come mai non indossavo la mascherina. Per il momento non c'è l'obbligo in questo senso per la nostra regione e allora mi appello al buon senso dei pesaresi. Bene indossarla per fare la spesa, ma soprattutto in qualunque spazio o luogo al chiuso, dove non è possibile garantire la distanza di un metro, all'aperto invece, soprattutto se si è soli, sulla base delle indicazioni dell'Istituto di Sanità a cui mi attengo, la mascherina non è essenziale. Quindi questa è la risposta che ha dato il sindaco quando qualcuno l'ha segnalato dicendo era in bicicletta, stava andando in un certo posto ma senza mascherina ed era all'aperto. Ora è un po' come quando si guida in macchina da soli e si indossa la mascherina. Anche lì ci sono le, come dire, non è che il volante starnutisce e quindi si è da soli si potrebbe, credo, anche rimanere. Poi è chiaro che il volante è una delle cose più sporche che esistano, il cambio, tutto quanto, quindi bisogna evitare di magari involontariamente mettere le dita al naso o negli occhi eccetera eccetera. Quindi forse la mascherina anche in macchina quando si è da soli può servire come scudo, perché altrimenti magari involontariamente uno non ci pensa e mette le mani in viso. Però ecco su questo ci sono varie scuole di pensiero. È un tempo incredibile, qui parliamo e diamo spazio alla fede, alla chiesa, nella pagina del Corriere Adriatico è un tempo incredibile, pregare in casa però porterà più valore alla Pasqua. La certezza dei pastori marchigiani impegnati fuori regione, non celebrare il segno non può scalfire la comunione con Dio, prova e rischi sono uguali per tutti, riscopriamo la solidarietà. Ora sono a Roma, dice Monsignor Claudio Giuliodori, vescovo assistente ecclesiale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Giuliodori, i marchigiani lo conoscono bene, a Roma al Gemelli ho visto una dedizione totale di tutti i sanitari, mentre Monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, pregherò perché lo spirito ci dia luce per osare cambiare quel che va cambiato. E poi Monsignor Giovanni Mosciatti, che adesso è vescovo della Diocesi di Imola, è un sacrificio non scelto, offriamolo per la liberazione da questo flagello. Anche qui ricordiamo niente celebrazioni nella festa più attesa, direi la festa più importante, ma che poi più che festa insomma è il momento, il tempo più importante dell'anno liturgico. Poi la veglia e la Santa Messa, le indicazioni dei vescovi ai vescovi. Questo è Monsignor Angelo Spina, l'arcivescovo di Ancona, Osimo, che presiderà la veglia pasquale alle ore 21 nella cornice della cattedrale di Ancona. Anche qui insomma ci sono dirette tra televisive e Facebook. Io vi ho appena ricordato quella nostra di oggi alle 18 dal Duomo di Fano, alle 21 con Papa Francesco, poi domani invece alle 10 dal Duomo di Fano, domani mattina e alle 11 da San Pietro con il Papa. Camice e mascherine scorte solo per sette giorni. Le FFP3, che sono quelle con la valvola, quelle che si usano in ospedale, sono purtroppo quasi finite. Gli ospedali sono in riserva, la Regione non riesce a rifornirsi. Anche questo è l'esempio di come appunto l'Italia, il mondo si è fatto trovare preparato su questa questione. L'alcol che non c'è, le mascherine che non ci sono. Poi è vero che adesso si stanno organizzando tutti, le mascherine sono quasi adesso disponibili. Però vedete, queste che sono invece quelle che servono per gli operatori sanitari, gli ospedali sono quasi in riserva. Per quanto riguarda la nuova disposizione, questo nuovo DPCM del Premier che ha annunciato appunto ancora restrizioni fino al 3 di maggio, libri, colori e vestiti per i bambini, ma per il resto tutto come prima. Poche le aperture, cartolibrerie, librerie, negozi per abbigliamento junior e la cura dei boschi. Per il resto tutto resta così com'è. Non possiamo correre il rischio di una nuova, di una riesplosione dei contagi. Queste sono le parole del Premier. Quindi per tre settimane ancora valgono le regole del decreto, io resto a casa. E allora, siccome siamo un po' tutti smemorati, ma soprattutto non è che siamo smemorati, abbiamo tutti la rispostina pronta, abbiamo studiato in questi giorni, in queste settimane e quindi abbiamo tutti noi abbiamo una scusa buona, pronta, che abbiamo preparato a pennello, pensato bene nella nostra mente, se nel caso venissimo fermati per strada. Quindi il fatto che noi abbiamo la scusa pronta e l'abbiamo studiato bene, questo piano di evasione da casa, non ci consente di fare quello che stanno facendo in tanti e stanno facendo in troppi. Quindi torniamo ad essere diligenti. Lasciamo stare il piano di evacuazione o di evasione da casa e continuiamo a restare a casa. Questo è importante perché altrimenti saremo sempre qui a studiare nuovi piani di evasione piuttosto che tornare alla vita di sempre, alla vita normale. Allora ribadiamolo come a scuola, per le attività si opera solo in smart working, come a Fano TV. Fano TV siamo tutti smart working, abbiamo ridotto praticamente al lumicino la presenza del personale qui all'interno. In questo momento qui ci sono soltanto io e il regista Riccardo Sora. Poi per il resto si sta a casa, si lavora da casa, si fanno le cose fuori ma in sicurezza. Qui ci si viene soltanto alla sera, in due, per fare e montare il telegiornale. Così come avviene per tanti altri settori. Poi ricordiamo le edicole, le tabaccherie sono aperte, si può uscire per comprare il giornale, ma anche qui il giornale non si compra alle 5 del pomeriggio, il giornale si compra al mattino presto. È un bene essenziale, certo, è un bene essenziale, bisogna informarsi, bisogna essere attenti. Quindi ecco, le attività delle edicole restano, l'attività dei quotidiani è ritenuto una necessità, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole sono consentiti. Restano aperti anche i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Va garantita però qui la distanza di sicurezza di almeno un metro. Poi, chiaramente lo sport è tutto fermo, i campionati ormai sono finiti, tutto hanno sospeso, qualcuno sta pensando ancora di poter giocare qualche partita da serie B, ma insomma togliamocela dalla testa, non facciamo le cose stupide. Quindi tutto lo sport è fermo, tutti gli assembramenti devono essere scongiurati in tutti i sensi. Sospese le cerimonie religiose, in chiesa però si può andare. Se siete sul tragitto e avete bisogno un attimo di rinfrancarvi lo spirito, con tutte le precauzioni del caso, con i guanti, con la mascherina, eccetera, eccetera, potete andare in chiesa un attimo e fermarvi, ok? Ma se siete nel tragitto, se siete durante, per andare a fare la spesa, dovete andare in farmacia, una chiesa la si trova facilmente, ecco, e quindi si può andare. Asili, scuole sempre chiuse, tutto quanto chiuso, didattica solo a distanza. Ho visto che le scuole si stanno organizzando, tanti si sono organizzati per queste lezioni online e stanno andando anche molto bene. Ora, sul fronte delle passeggiate, ripetiamo ancora una volta, lo fa il Corriere Adriatico molto bene questa mattina sulle pagine interne, uscite con il cane solo nei dintorni delle abitazioni, le uscite in bicicletta o a piedi per praticare attività motoria come una passeggiata per ragioni di salute possono essere solo individuali, quindi niente passeggiatina mano nella mano con la coppia eccetera eccetera, si deve restare intorno alla propria abitazione e non oltre il proprio isolato, idem per le uscite con l'animale da compagnia per esigenze fisiologiche. Per quanto riguarda invece i parchi, i parchi, le spiagge e le aree giochi, resta il divieto assoluto. In tutte le marche i giardini pubblici sono chiusi, le spiagge sono chiuse, tutto quanto chiuso. Poi è chiaro che non può essere, fisicamente così dappertutto, cioè dovrebbero mettere i nastri, mettere i sigilli, le persone, i piantoni. Chiaro, un parco, uno mette un cartello e poi finisce lì, poi se ci sono le persone che lo frequentano è un altro paio di maniche. Il parco comunque è chiuso, l'ordinanza firmata dal governatore Ceriscioli a metà marzo è stata prorogata venerdì della scorsa settimana fino a tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dunque fino al 3 maggio. Poi sono proibiti gli spostamenti da un comune ad un altro. Attenzione, dal 22 marzo è vietato di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso da quello in cui si abita, salvo che per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute. E qui si apre di nuovo il dibattito, il supermercato sotto casa non c'ha quella roba lì, devo andare in un altro comune, devo andare a bellocchi, devo andare di su, devo andare di giù. Ecco, tendenzialmente non si può fare. Poi se è una questione di vita o di morte lo direte alla gente di polizia e vedrete quello che succede. Però, ripeto, state sul visibile, non sull'invisibile. Le cose tangibili, non su quelle cose che poi dovete discutere, dibattere perché pensavate che fosse così. Le cose si possono anche discernere tra cose sicure, dove potete avere ragione senza nessun dubbio, e su quelle invece dove si potrebbe discutere a lungo. E allora evitate quelle dove potreste discutere a lungo e fate la spesa dove si può andare sotto casa. Per il resto, dopo il 3 maggio. Si può fare acquisti andando anche in altri comuni, solo se il proprio, vedete, non disponga di punti vendita. È chiaro che se in un piccolo comune l'unica alimentare è chiusa, bisognerà andare in un'altra parte. Ma solo per i piccolissimi paesi. Previste multe, e questa è l'ultima, previste multe da 400 a 3.000 euro e nei casi più gravi c'è anche l'arresto. In caso di utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Se si è invece positivi al Covid, la violazione della quarantena comporta l'arresto da 3 a 18 mesi e un'ammenda da 500 a 5.000 euro. Anche qui come faccio a sapere se uno è positivo o non è positivo, eccetera eccetera. L'importante è che nel momento in cui veniate fermati voi non siate nell'elenco dell'Asur. Se siete in un elenco dell'Asur in cui c'è scritto che siete positivi e voi siete fuori casa, quindi non siete nella quarantena obbligata, chiaramente gli scatta l'arresto. L'arresto è quello che ne consegue. Allora andiamo adesso avanti con la rassegna stampa. Oggi è sabato, ce la prendiamo un po' più lunga, sono le 7.59 perché ci segue in diretta. Allora, nascite in casa per 2.500 euro. Ci sono tante richieste. La paura delle future mamme, l'equip di San Marino a domicilio, ginecologia, le risposte di qualità di condemi, reparto blindato. Dunque il coronavirus non ferma le nascite, semmai le moltiplicherà tra nove mesi, ma intanto, a parte la battuta che c'è fra parentesi, non è mia, ma è del giornalista Gianluca Murgia. Allora, intanto sta cambiando il modo di viverle. Contro ansia e timori di contagio, cresce nell'entroterra pesarese il fronte di chi decide di partorire in casa, come si faceva una volta. Diverse future mamme si stanno infatti affidando ad una clinica privata di San Marino che con esperienza ventennale per 2.500 euro assicura a domicilio un'equip di professionisti con ginecologo, ostetrica e pediatra, con possibilità di essere seguiti anche prima e dopo. Un modo per evitare alla base il rischio di contagi, ma anche per poter godere della vicinanza e del sostegno della famiglia. E questa è la proposta che c'è e che arriva appunto da San Marino. E sotto invece la fotografia di Malaventura, purtroppo, mannaggia, gli è tornata la febbre. È stato uno dei primissimi, tra l'altro sportivi, a parlare apertamente del coronavirus. Lo ha fatto pubblicamente senza esitazioni. Il suo messaggio di ottimismo e di speranza è quello di domani. Sarà per Matteo, noto cestista pesarese, giocava a basket, una Pasqua particolare. Sarà quella di Matteo. Sarà una festa diversa, ma stare a casa con la famiglia dopo questa paura la renderà bellissima, dichiarato tra l'altro in un programma televisivo sulla 7. Mala, così viene chiamato, lotta da oltre un mese con il Covid-19. Da alcuni giorni ha lasciato l'ospedale per tornare dalla moglie. Ancora non sto riuscendo a recuperare totalmente, ha detto. Però, insomma, mi hanno detto di stare in isolamento per 14 giorni e poi potrò rifare il tampone. Insomma, quindi forza e coraggio. Ancora, le mascherine gratis, famiglia per famiglia. Il sindaco Ricce elogia i pesaresi che hanno restituito invece i voucher che avevano ricevuto per sbaglio, quelli per fare la spesa. Ci sono stati dei problemi e qualcuno l'ha ricevuto per sbaglio, però correttamente queste persone, queste famiglie hanno detto no, non servono noi, datele a chi ne ha più bisogno. Intanto le mascherine e la distribuzione proseguirà anche oggi. Anche la CNA consegna i dispositivi alle aziende. E ancora, dalla pagina del Corriere Adriatico, riaprire le librerie, segnale di ripartenza per la nostra anima. Cauto ottimismo tra i gestori, c'è chi avanza dubbi sulle modalità. Nel frattempo, in diverse si sono organizzati con la consegna a casa. E poi i bagnini. Noi bagnini garantiamo la tintarella a domicilio. Riscuote successo l'idea di Filippo Sparacca, dei bagni Joe a Marena, per poter aggirare l'incognita della spiaggia. Lettini e attrezzatura a noleggio per ricreare un angolo di mare in terrazza oppure in giardino. Buone spese a martedì, secondo round, c'è un tesoretto di quasi 60 mila euro. Già consegnati 630 voucher, il resto verrà consegnato entro oggi. Seri e tinti, dicono, per chi ha diritto, questa sarà dunque una Pasqua serena. Sono 23 le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa e accettano appunto questi tagliandi. E poi la chat sotto, qui sempre sulla pagina di Fabio Corriere, la chat per non abbandonare i malati di Alzheimer, chiuso il centro Margherita, ma non si ferma però l'attività grazie al ponte con le famiglie. Azienda salva grazie ai divisori antibatterici. Quali sono questi divisori antibatterici? Quelli che sta tenendo in mano Roberto Bastianoni, che appunto produce con la sua azienda questi pannelli, servono per quelli che c'erano una volta tantissimi anni fa alle poste o alla banca, c'erano tutti questi sportelli, tu devi parlare e passare i documenti con la manina attraverso la feritoia. Ma per il resto poi sono scomparsi, tutti open space, tutti anche quando uno va in banca sa tutti gli affari di tutto, perché sa quanto ha in banca il vicino, quello che viene... perché? Perché siamo tutti così, adesso tutti open space, in realtà prima c'era un po' di riservatezza. Qui però non è questione di riservatezza e di udito, ma è proprio di protezione dalle famose goccioline che in questo caso sono pericolose in epoca di Covid, proprio per evitare che ci sia il contatto con queste goccioline tra l'operatore e il cliente. Questi divisori antibatterici, potevo chiudere o reinventarmi, dice lui, ho scelto la seconda strada, quella di reinventarsi e continuare facendo business. È un prodotto molto richiesto in tutta Italia, protegge chi lavora contattore, il pubblico e quindi perché no? Benvenga. Concorrenza invece sleale, qui c'è sempre il giustiziere della notte che cellulare alla mano segnala, telefona la polizia locale per dire qui vendono le scarpe quando non potrebbero venderle, qui vendono questo, qui succede quell'altro, insomma ce ne sono di giustizieri. Noi riceviamo anche video che chiaramente non possiamo trasmettere, non ci pensiamo nemmeno, ma riceviamo video di gente che fa le poste, incredibile, gente che sta lì, filma il vicino di casa, che esce senza la mascherina, poi ce lo manda a noi pensando che poi noi siamo lì a promuoverlo, per non dire altro, in televisione facendogli fare brutta figura. E quindi questo è un po', questo Covid ogni tanto dà la testa. Ma comunque va bene, quindi non fate filmati al vicino di casa che esce e poi ce li mandate, lasciate perdere, magari fateglielo sapere, con le buone maniere, ma la mascherina se l'è dimenticata? Potrebbe essere una battuta, ma intanto Pulcinella scherzando diceva la verità. Aperti allo spazio con, dicevo, questi reparti che dovevano rimanere chiusi, i commercianti chiamano i vigili, solo un disguido dicono, e quindi poi nel pomeriggio sono tornati i nastri, quelli che vedete qua sotto, e quindi sapete che a Spazio Conad, che è il centro commerciale più grande, ci sono dei reparti che sono chiusi, reparti dove si vendono le scarpe, si vendono abbigliamento, quelle cose lì, siccome gli altri commercianti che vendono solo abbigliamento sono chiusi perché il decreto lo prevede, ecco per evitare concorrenza sleale, dentro questi supermercati così grandi dove c'è di tutto, alcuni reparti sono stati giustamente chiusi. Ora c'è un ponte tra Italia e Zambia, accumunati dalla stessa lotta al virus. Raffaella Nannini lancia e rilancia il centro di maternità di Lusaka, fortemente voluto dal padre Italo. E poi dalla Valle del Cesano salta l'internet, salta l'ADSL e dunque si scatenano le proteste degli isolati. Pedinelli e i tecnici della team però subito al lavoro, nel pomeriggio è tornata la linea internet anche a San Costanzo e poi ai mondolfesi arrivano oltre 18 mila mascherine distribuite gratuitamente dal comune. In settimana inizieranno poi altre consegne. A Senigallia invece la triste, tristissima, questo è soltanto un piccolo spaccato di quello che purtroppo succede e ce ne sono ahimè tanti di racconti simili a questo. La mamma muore in Giulia, la figlia, non può salutarla, si erano ritrovate dopo 70 anni, niente funerale, ovviamente per le norme anti-Covid. Erano state separate nel 1948, poi la dura battaglia per ricongiungersi e ritrovarsi. Crocifisso, ecco la foto del pick-up, di questo crocifisso su questo pick-up con la processione per le strade per le strade di Apecchio. Un crocifisso che è stato portato in giro su questo mezzo, proteggici come nel sisma del 1781, eccezionale processione di Apecchio voluta da Don Sauro, tutto il paese sui balconi ad assistere a questa processione, a fare un gesto, a fare un segno di croce, a una preghiera spontanea, una raccomandazione, una cosa d'altri tempi sembra, ma è che in realtà, vedete, è tornata, è tornata di moda. Moda insomma, è tornata per fortuna, non è moda. Un soccorso psicologico a chi è in trincea, siamo sulla pagina di Urbino del resto del Calino, medici, infermieri e OS, attivato un servizio per sostenerli nella lotta quotidiana al virus, stress e ansia e qualcuno parla della fatica fisica che deve affrontare. È importante anche questo servizio, ne parlavo proprio ieri con una infermiera che lavora in ospedale a Fano e diceva che per loro è importante questo servizio psicologico che è stato attivato, è importantissimo, è fondamentale perché anche loro sono uomini, sono persone umane, è chiaro che quando entrano tutti i problemi restano fuori dalla porta e quindi diventano un poi tutti degli Highlander fortissimi, robustissimi che indistruttibili, poi però quando si tolgono la mascherina e tutto il resto per riprendere i panni dell'uomo, della donna, della donna di casa, della mamma eccetera eccetera, lì tornano e si rimettono addosso tutti i problemi eccetera e quindi a volte un aiuto psicologico come quello che si sta mettendo in piedi, come è stato messo in piedi in questi giorni, è un aiuto molto importante. Gli auguri del sindaco sanitario, non siete più soli, la città vi abbraccia, il messaggio di Pasqua di Gambini, sindaco di Urbino, non vi siete mai tirati indietro quando è stato il momento di prendersi cura dei malati, a voi va il mio ringraziamento. E poi l'addio della Caritas e della chiesa di Urbino in lutto per la scomparsa di Anna Maria Amadori, Amadori aveva 79 anni, per 18 anni tesoriere della Caritas diocesana. Chiudiamo con questa fotografia, Leo Profili lo conoscerà, lo conoscerete sicuramente, i fanesi sicuramente tutti ma anche nella Valate del Metauro, è lo storico massaggiatore del Fano, si racconta, sta bene dall'esordio del 1978 ai fantastici anni con Gentili all'addio con le lacrime. Ora è a Fossobrone, 40 anni e passa a massaggiare, lubrificare le gambe dei calciatori, 75 anni e non sentirli perché il massaggiatore Leo al secolo Leonardo Profili, una vita passata nell'alma Juventus Fano con una bella parentesi pure alla Vispesaro e ancora oggi sulla breccia, anzi sul campo a massaggiare i polpacci dei giovani atleti del Fossobrone, in eccellenza e anche lui lavorava in ospedale, poi è entrato nel mondo del calcio in punta di piedi, succedendo ad un altro grande massaggiatore conosciutissimo e apprezzato a Fano, il pesarese Franco Barozzi e Silvano Clapis racconta la storia di Leo Profili. Ok, allora con questo abbiamo fatto un po' più lunga ma anche per stare un po' insieme questa mattina, visto che poi domani e dopo domani saremo anche noi con le nostre famiglie e dunque a casa per festeggiare la Pasqua e la Pasquetta e allora grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata e vi ricordo alle 18 la messa dal Duomo, alle 21 da San Pietro per la veglia e poi domani la messa di Pasqua sempre in diretta su Fano TV alle ore 10 al Duomo di Fano e alle 11 con Papa Francesco e qui colgo l'occasione per ringraziare anche Filippo Pucci che è il nostro operatore che ha voluto rendersi disponibile per garantire queste dirette dalla cattedrale del Duomo di Fano. E ovviamente io ringrazio tutti i collaboratori, tutti dalla regia a tutti quelli che collaborano e lavorano per il telegiornale, per mandare avanti la televisione. A loro faccio gli auguri e li faccio anche a voi a nome di tutta la struttura di tutto Fano TV, vi auguriamo di trascorrere una serena Pasqua 2020. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.